Trovarci il signor Johnson, della banca centrale di Victoria. Buongiorno, signor Johnson. Il signor Johnson è qui per parlarci dell'importanza delle banche. Grazie, signorina Daggerty. Nel corso della vostra vita ci saranno tre cose per cui avrete bisogno di soldi. Vi ascolto. La macchina. Sì, esatto, una macchina. E poi? La casa. Meglio ancora, una grande casa. Ma la cosa più importante per cui bisogna risparmiare è questa. Per Babbo Natale. No, no, per Babbo Natale. Per quando saremo vecchi? Bravo, esatto, per la pensione. Se non avrete risparmiato, quando sarete vecchi, di che cosa vivrete? Però, se riusciste a risparmiare 50 centesimi a settimana, mettendoli in banca, il vostro investimento raddoppierebbe ogni tre anni. E tra 25 anni a partire da oggi, ciascuno di voi disporrebbe sul proprio conto personale di una somma pari a 727.000 dollari. Ma è impossibile. Un anno ha solo 52 settimane. Sì, sì, questo è vero. E in 25 anni? Ci sono 1300 settimane. Sì, sì, esatto. Ora ti spiego come funziona. Interessi composti. Sono interessi sugli interessi. Hai capito? Sì, certo. Bene. La banca centrale di Victoria vuole offrire a ognuno di voi questa possibilità, versando lei i primi 50 centesimi.